oh, davvero un po', allora è su shop, ok allora, aspetta che mettiamo questo soaring ocean toccai ok si ce l'ho ce l'ho perché avevo preso delle gemme che te te le puoi fare però non so come si dice una al giorno che la apri e per tipo un mese ne apri una però non mi ricordo 20 giorni quant'è 10 giorni una così e le altre che ce le hai libere però non te le dà meno è capito non so perché allora bart dai siamo qua dopo che mi hai sconfitto stregone maledetto ora mi devi portare fortuna andiamo ad aprire il grande soaring ascent allora bart cosa ti aspetti da questa apertura bustine eh si anche perché non ne da altre ce ne da allora nel box se ne segna ancora una un tintinnante e un'arboria ok arboria arboria perché ne da solo una bart te che sei un po più espertoni perché perché la puoi giocare che monocopia allora dai andiamo a fare sto spack and bart open park via vediamo cosa esce andiamo su massimo 10 e via bart portaci fortuna dai quando quando do il via devi dire stregone maledetto via dai oh ha fatto giallo arancione però il viola il viola trema tutto minchia bart vieni qua sempre cavolo allora la facciamo dopo eh prima quella vicino e ora lei ha tremato tutto ragazzi ascia ma che cavolo sai bart allora qui e ci voleva tanto prima bustina ragazzi ascia cioè bart vai eh ma non hai detto aspetta 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 eh no io aspettavo ormai avevo schiacciato qua abbiamo trovato abbiamo trovato una canna e un watermelon e quel dragone da 11.000 sei quello con le ali ok tacci ok tacci vai bart stregone maledetto t'ammazzo oh niente ancora niente acqua force neonettare acqua force eh la prima abbiamo giocato tutto nella prima allora dai ma noi cosa abbiamo detto tu cosa hai detto eh cosa ti aspetta appena spusti ascia eh io ho parlato è un altro eh no però aspetta adesso impegnati perché ci abbiamo da trovare tintinnante ancora uno e ok un arborea perciò dai manda al fluido via eh ancora tintinnante stregone maledetto eh non lo dà non lo dà non lo dà acqua 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 eh lo so lo so vieni ma deve arrivare deve arrivare bart 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 stregone maledetto via la pg di acqua force ah c'è l'elfo c'è il grado 1 quello lì da 7.000 e il bitone da 10.000 dai vai bart parti si stregone stregone maledetto stregone maledetto stregone maledetto ahahah ahahah eh ahahah ha arrivato un grado tre quello del phyroid come si chiama quello sei quello ok ma gira del phyroid si si vai bart dai porta buono di di una fra di una frase salute maledetto di una frase saluta tale nostro team dai ragazzi eh 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 ciao ragazzi vabbè così proprio no è ancora ancora due bart il fluido è ben perso il fluido dai via niente niente da quel dragone grado 3 10.000 no 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 ma io sono contento che c'è lascia perché con lascia già due asce già sono buone solo una vabbè dai così diciamo che è stata una buona sbustata se mi dicevano ti trovo in ascia o l'ultimo a 10 10 di 10 dai vado niente 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 cioè non è che niente sta roba di acqua vabbè vabbè io sono felice che c'è ascia la ingrandiamo perché è meravigliosa vediamo se non far dire che bella bene così già va bene bar è bravo hai fatto il tuo dovere allora sono stato assunto assunto su per le spacchettate assunto assolutamente ora usciamo qua e poi vi faremo vedere in un video magari successivamente a questa spacchettata il super scontro con lo stregone maletto come diceva lui aspetto 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 mi piace ok dai proviamo guarda qui guarda qui guarda come sono bella e carina piccolina tu sei sempre quello grande madonna mi brutto allora allora sì però vedi qui adesso e san jenny e san jenny e san jenny vediamo vediamo cosa sappiamo fare lì come si chiama come si chiama quella quella specie di personaggio kate che non mi ricordo mai ok vada vedi che è veloce oggi no è la lima il gioco pirollone a colometto sempre kimber mi messo e sopra chi è e dopo kimber chi è questo io invece mi vendi cazzo mi vendi cazzo io adesso vedrai che ridere adesso alla mettiamo questo qui mettiamo questo qui e mettiamo questo qui eppure questo qui a così mi piace poi facciamo Batta le nichia allora facciamo subito questo qui secondo me i nichiai io sono proprio questo che ti ha fatto eh io non so cosa fa dopo poi è sempre un 10.000 che attacca eh bravo è proprio quello che è ok la brutta di questa unità è che non mi puoi attaccare la... non posso attaccare io ah ok ok è buona per la sciaglia si ok ok mettiamo lui mettiamo lui ok e una, due e va bene scia 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 ora io torno all'attacco e faccio questo qui allora minchia ora attacco con quella antipatica col critico porca droga no non c'è c'è questa che bella maestra e ti e no basta eh non ti gasare troppo con questi attacchi eh no mi preparo la stride per dopo no? eh vedi ecco il maestro mi ha insegnato bene eh è vero o no? e ti vuoi preparare e questo è il problema che ti vuoi preparare per la stride attacchi eh i vanguardi attacchi eh i vanguardi attacchi eh 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 oh che brutto questo qui eh vai 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 io vai io tu vai io vinco ahah ricorda non fare il furbo non fare il furbo sai che c'ho la stride pronta a non fare il furbo poi io faccio vanguard ho capito come ma io qua non ne ho messi aspetta vediamo come cazzo si fa qua eh poi io attacco guarda qui guarda cosa metto c'è il vanguard forte che dovrei vedere non l'ho visto non so se hai lottato eh cosa fa questa non mi ricordo fa così questa cosa ok non so niente io mettiamo questo mettiamo questo mettiamo questo poi mettiamo questo e poi ti battiamo eh al sesto, al settimo una doppia cura per favore, no, non devi dire per favore va bene, allora giochiamo col mazzo buono ecco lì, arrivi in città del maestro Miyagi ora mi porta, lo so io cosa mi porta guarda cosa ti porta adesso guarda te la faccio cancare ahia, sento già il rumore dello sciacquone allora senti il rumore dello sciacquone, guarda come lo sentirei bene beccati questa benissimo ah guarda come siamo messi io sono già pronto eh che poi dici che ti faccio perdere tempo mi fai perdere tempo ora vedo come te lo faccio perdere io il tempo che ha subito subito a perdere tempo adesso, guarda guarda presto tre, due, uno, via, all'attacco ma perché io c'ho scritto sono novizio e te non c'è scritto niente c'è una riga scritta di due ore non so cosa c'è scritto niente poi ti dico dove metterla sul menu eh tipo la... una frase di così tipo della club vabbè ma te cosa hai? generale cosa hai? novizio cosa c'è? professional cosa c'è? non lo so sono molto più avanti eh ma lo so io gioco ancora in serie C carina la ragazzina lì eh sembra sai ti ricordi quella di... oh mio dio quel cartone guarda che non mi viene in mente aspetta qui vedi vallgaard questa è che club gioca vediamo se ti racconti di angolo no è un wix vallora ah ok è peggio allora ok no invece sai chi mi viene? gli veniva in mente a me senti forte invece perché ti voglio bene poi dopo ne facciamo la riel o l'altra colpa di roma o il wix con il riel come sei antipatico stai calmo che poi ti faccio male ti rascio come un pollo oh no come sei antipatico metti qualcosa dietro a misca no? ecco no se no ti attacchi con semimera ma non c'è ti sei rossa che ho scuso dalla mano no ma perchè volevo provare così il problema è che non puoi t'attaccare è sbagliato e non attaccare con la lezu ma no perché tanto il wangar non passava lo stesso il wangar ti passava perchè? ho provato ho fatto ho fatto la rulletta russa la rulletta che russa eccola qui che bello le streghette le streghette sono forti non sono solo la streghetta è forte non è solo bella adesso al prossimo turno questa qua mi mancava di arrivarci questo momento fiamma stregatette e pelotizzante chi ha chi ha è no maestro miaghi che domande fai che domande fai maestro miaghi no ma non ce la faceva allora dai vediamo cosa mi fia di fuori dal cilindro wow che belle immagini c'è un porco maiale lo so io perché ho fatto sto mazzo io però me lo vado a vedere io perché simpatica quindi te la tolgo simpatica e carina no tranquillo non ne metto più va bene eh ma se ne vuoi mettere le metti così te la tolgo eh sì sì anch'io eh 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 in che adesso fa stride forse sì no forse si pensa che ce la fa stride dettation eh invece non la faccio così ti frega eh vabbè tanto mi frega non lo stesso che ti faccio male ti frego lo stesso 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 eh vedi ma su io te l'ho detto eh che ti fregavo vedi mi hai fatto la cura mi hai portato via tutto poi mi tratti male è normale che poi ti ammazzi questa oh Bart eh ma quanto più critico sul che faccio tutti a vincere non mi faccio anche il stride perchè sono simbatico perfetto ok quindi vai ok e devi studiartelo ancora no no me lo devo studiare perchè la faccio così andiamo in Rio faccio legio che bella la legge sì sì ma è bellissima non c'era niente ma dai cosa vuolessi questo cosa vuolessi ma c'era niente ma dove non ti ha fatto fare l'abilità 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 allora l'abilità dice manda le prime dieci scegli due gradi credovi scegli oh non c'era guarda se è dove c'è la cura scala grazie ok a posto però io va bene perché tanto io adesso mi vado a fare cose simpatiche mi vado a fare cose simpatiche ok mettiamola una e due una qua e una qua ok non c'è chiudo perchè non c'è chiudo non lo so no no perchè mi avrete dentro la guardia con zero vaffanculo me l'ho dimenticato ok sai che non lo so fatti gli scherzi non lo so allora io mi posso fare questo così questo così ok si questo lo facciamo così ma non ti preoccupare non ti preoccupare si perchè tu pensi di finire questo tutto nooo io 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 penso il problema che tu pensi io non ho pensato niente non ho pensato niente ho pensato va beh Croce io non ho fatto niente sono bravo simpatico carino io sono simpatico carino eh affari tuoi te fatti gli affari tuoi te te ti puoi fare anche gli affari tuoi eh E allora se va bene, la facciamo a nobito No, no, mettiamo la Mettiamo la Attiviamo un fetto, spacco E la 5 al manga che mi piace Sempre, sempre Certo, come sempre Dopodiché attiviamo una bella Perfetto, un bel Mettiamo questo Ma non c'è niente di nuovo Ma non c'entra niente, giuro io Ma non è possibile Eh, guardi, nella vita tutto è possibile Ma allora, dato che c'hai una Hai solo una parte in mano però È perché ho provato a chiudere, no? Prima È un ruolo, ma non c'è Ma no, ma perché Appena hai fatto il Come si chiama? Il maestro Shitsumitsu quarto che ve lì Non sarei mai passato Ha detto, gli levo una retro, va Eh, ma il problema È tuo Il problema è che ti spiango Ti spiango, ti spiango Ti attacchi Quindi Perché cambia la cosa Perché ti faccio pieni Le carte in mano Non ce l'ho Non lo so, non lo so, eh Non lo so, non lo so Non ce la fai a chiudermi Sto donno Ma io so che tu sei Maestro Shitsumitsu quarto Vabbè, è questo Ma io so che Mi ha cura e sicura Guardalo come sicura Guardalo Eh, ma l'aspettavo, l'aspettavo Beh, ho proprio un po' di cose La legge E adesso so cazzo in due Lo strike Mi piace fare lo strike Mi piace Allora, intanto Tiro skill E cazzo la skill La posso attivare? No, la posso attivare però Allora, tu che di zero Ne hai uno soltanto Eh, vabbè Quando facciamo lo stesso Che te ne frega Una, due Mentre facciamo Una Due Tre Quattro Quattro Perfetto Legione Legione Sei proprio un legione Ai 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 Ecco di questo Allora Allora facciamo così Quindi Guardiamo L'ho piattosto con lei Questa mostra è stata intelligente Guardate che cascina Di me Anche Battacolo le streghette sempre belle più che sull'altro lato oscuro anche su quello chiaro ma io ho detto provo il tutto per tutto perché se mi usciva qualcosa potevo magari andare avanti invece se no mi sfia mi sfiancavi dopo capito la rivista no voglio la rivincita con le streghette dai è mitico questo mazzo questo di qua vedi che io e Frank sono salito anche grazie a questo che non fa schifo quindi l'ho detto mette pressione perché tanto è vero che non ho critici ma dover parare con dinamite attacchi e vederti diminuire sempre l'attacco non mi coglioni grande mazzo ce l'abbiamo anche noi l'avevo trovato ti ricordi dove l'avevo trovato non mi ricordo manco da chi no ti avevo mortato io la foto di quella che lo vendeva a poco sai che non mi ricordo manco più non lo so per me non l'abbraccia eh si si no ma no 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 l'ho completato è a 60 euro non mi dico che sia a 60 euro no 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 non ho preso tutto il mazzo l'ho completato con la hai preso quelle cartola l'hai si si che non trovavo quella la Deidre 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 non lo so quella è quella difficile mamma mia ragazzo sono stato matto per trovarla Deidre, Pg, Framboise delle Witch Genesys e Mint e Sio Yggdrasil quelle sono le 3 controcatti quelle spagioni che erano veramente difficile anche sto qua che stai cercando adesso ultimamente te non è tanto facile da trovare eh io ho chiesto in 2 o 3 non ce l'hanno eh ma lo troveremo sicuramente lo troveremo è che adesso dobbiamo andare di nuovo a rifrequentare tutti i nostri amici ritrovare sai è mica semplice adesso eh è vero o no? Sì Firmi Firmi in sul guarda un po' irmi in sul guarda un po' irmi in sul come funziona guarda un po' irmi in sul guarda un po' irmi in sul eh ce l'ha più no però aspetta mica finisce qui lo sai eh ora faccio un battaglione allora facciamo così ti attacchiamo solo con questo siamo gente umile dobbiamo riprendere il brufen sì l'ho preso ok non mi ricordavo che se l'avevo presa no mi serviva il 5.000 di qua non hai capito mi serviva qui hai capito? se no non passava guarda tu curi te dopo lo sai eh ma se lo sai che se non faccio il rascione con questo mazzo tuo mi sfianchi dopo eh vedrai comunque come Arthur sono bellissime le streghe guarda sto guardando tutte man mano che le giochi proprio bello si aspetta faccio così questa è la vita guardi così qua è l'attacco di un vincito la dana la dana troppo bella dana eh bah anche come Arthur è bellissima eh la dana la dana la dana eh la dana la dana no non la dana mai dana eh la dana allora facciamo questo adesso che ci serve per dopo ho trovato qualcosa certo perché si aspetta a trovare allora vediamo un pochettino facciamo così stride non la posso fare però posso fare così eh posso fare sempre le state eh cerco di spingere capito eh 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 tu figlio quella la lascio al stare non ho starred eh giusto l'altra conna giusto eh certo così mi distrugga tutto certo giusto allora prima rompiamo lui poi rompiamo lui si perché si è ma spezzata anche a meno ma aspettavo ho rotto anche le retro più che le scatole vai fammi vedere sti immagini e levati zitto bar questa è la mia immagine che meraviglia il numero tete è il mio numero pebelito numero pebelito tete arriva arriva ok ora io in teoria devo solo resistere a questo turno qua basta il resto e il prossimo lo chiudo è sbagliato è sbagliato è sbagliato è sbagliato hai usato il doppio lo chiudo oh io volevo chiuderti non ti chiudo ok avevi anche sbagliato lo sai è mamma mia avevi anche sbagliato te ne rendi conto la risata gallesca e vabbè dai bisogna saper perdere la vita e io so perdere questo che culo non mangiare il critico hai scala niente certo giustamente bene ti vado vedere la mia mossa più potente vuoi vedere la mia mossa più potente questo si ma questa è la tecnica del trio delle streghe guarda guarda doppia cura eri già morto te e le tue quattro tette visto ritira ritirati ritirati tu ritirati tu a portaccio non me lo fa fare più no solo una volta a turno non lo fa fare ma lo fa ma lo fa tantite allora va bene non disperiamoci no perché vedi guarda un po' hai tutta la fortuna dalla tua eh quindi intanto facciamo legion ecco fa legione sapevo che faceva legion non sapevo che faceva legion facevi le scollegioni ok 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 bella 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 con mille mi salvo eh è allora ti attacco con la cura Mille sono forte Bevi, sei vergognoso eh Ciao Va bene Vabbè, dai dovrò vincerti e basta Sono stato bravo Fino a qua sono stato bravo E ora sono affari tuoi E vabbè E vabbè Io, io non ho fatto niente Io, io non mi sbaglio con lei non puoi attaccare Cosa? Non puoi attaccare con dove c'è Asha E non ti preoccupare, ci penso io Ah, non posso attaccare con quella con Asha? Se mi sbaglio o no? Vedi, prova, però Minchia Beh, ancora, certo Sei che stronzo, te la che stronzo Ti fa attaccare? Sì Ah, ok Ma pensavo che non lo so Allora era al contrario Non posso portare, ok Al contrario Secondi check Secondi check Eh, vai Meno male che ho caricato lui, eh E vabbè Ehi Yo, Ananas Aaaaa Ma no Ma la terza Ma questa qui no È la mano maledetta Avevo vinto T'ho fatto 18 danni in questa partita Senti come ridi La partita maledetta Con lo strigone maledetto Aia, aia, aia A me no, eh A me no la cura, eh Ah, sto disgraziato 18 cure C'aveva Ok Le avevo rischiate E io ho detto Ma ma Cioè, vabbè Comunque la probabilità che usciva Era veramente bassa No, no È il tuo culo Che ha delle probabilità Talmente alte Che non va bene Cioè, riesce a influenzare Anche un programma Tecnologico Witch e witch Eh, witch e witch Qui Andare a chiamare L'ordine dei medici Vanguardiani No, guardi Ma Ma ha fatto proprio Un coronavirus Intestinale Ma ha preso Mamma mia Piegamo con questo È bellissimo No, no Adesso basta No, devi Non ti augura Non ti augura E poi vuole al senso Cioè Avevi Ho 18 danni Se te li conto 18 Bene, bene Dai Grande partita Bellissima Veramente Va In che L'ho immaginato No Io a volte me lo immagino Che con te succedono Anche ste cose Ormai non è più Proprio una sorpresa Ma la terza Ha detto Non è possibile E niente Basta Adesso L'altra L'oracolo Ormai Ha sentenziato Bene Bene Dai Allora Un saluto Ai nostri amici Diego E Sergio Che Non li vediamo Da tanto tempo Però Ci mancate Ragazzi E speriamo Che Si sblocchi Tutto Anche se Ormai Mi sembra Che stia Peggiorando La situazione Giusto Bart Eh si Sì Vabbè Speriamo Che le cose Mignorano Vabbè Per adesso E per adesso Va bene Ragazzi Un saluto E alla prossima Sbustata Insieme A Bart Di nuovo Di rito Ciao Bart Ciao Ciao